Sono contento. Le installazioni che verranno fatte all'interno del quartiere prevedono una nuova area a gioco, un nuovo parco inclusivo, via Petri, che è concomitante alla pista polivalente da basket. Questa area prevede 5 installazioni che sono completamente fruibili a tutti i bambini, quindi delle altalene, lo scivolo, ci sarà la giostrina, un'arrampicata che è una struttura completamente nuova e dei giochi sensoriali. Tutti i giochi che appunto avevano chiesto i bambini e noi abbiamo cercato attraverso i tecnici di mettere a terra, quindi di rendere compiuti. Oltre questo ci sarà tutto il lavoro di riqualificazione di luci, sia di nuove luci nella parte di via Petri, in quel tratto che oggi non era illuminato e poco sicuro, con anche dei nuovi arredi e dei nuovi cestini, ma anche di relamping per quanto riguarda l'efficientamento energetico, quindi il risparmio, quindi un'attenzione maggiore, per quanto concerne la parte a coda sempre di quest'area. Oltre questo interverremo sulla piazza dell'area di Sant'Orso, laddove c'erano dei giochi ammalorati, le fontane non funzionavano, ripristiniamo tutto, quindi le due fontane torneranno a vivere in quel quartiere e l'area giochi verrà riqualificata in tutta la sua essenza. Oltre questo abbiamo illuminato, come avete già visto, i due attraversamenti pedonali, nell'area Skate Park metteremo due nuovi punti luce e una nuova fontanella. Questo è importante perché si conclude un ciclo comunque di richieste importanti che il quartiere ci aveva posto, proprio per dire aiutatici a trovare dei luoghi dove noi possiamo vivere insieme al meglio. E dopo l'esperienza di Halloween ci aspettiamo che sicuramente quello è un quartiere che diventerà sociale in tutte le sue parti.